In Sardegna si conta più del doppio degli abbandoni in età precoce nel mondo dell'istruzione rispetto agli obiettivi d'Europa 2020. E i laureati sardi sono appena il 16,8% rispetto al traguardo europeo da raggiungere nei prossimi cinque anni. Numeri che dovrebbero interrogare ogni singola comunità della Sardegna. Anche su questo tema centrale, ad Arborea, ora si cambia. Forniremo alle famiglie un quadro preciso della realtà scolastica. Verrà realizzato un osservatorio speciale sulle dinamiche che accompagnano la crescita e l'inserimento nel mondo del lavoro dei nostri ragazzi. Daremo priorità agli spazi da destinare alle iniziative che favoriranno incontri, cultura e aggregazione. Saremo vicini ai bisogni delle persone, forti di una tradizione robusta fatta di solidarietà e cooperazione. Avvicinare le soluzioni anziché nascondere i problemi. Questi sono i semi buoni da coltivare con cura per rendere florida e moderna la società di domani. Ci vorrà del tempo per avere dei buoni frutti, ma lo conosciamo bene il valore del tempo qui ad Arborea. Ora si cambia. Sì per Arborea.